incredibile ma è turbo sta moto c'è un compressore ma quando è più grande è enorme che è un T3 35 e il carico il carico è 35 io dicevo 3 il T3 questo è 35 quindi sarà 3 metodi ma è enorme ma è enorme impressionante allora quanti cavali è sta bel va? 440 che oggettivamente non sono sfruttabili perché è un motore 1.3 Hayamusa un'altra 300 euro per capirsi sono alimentato insomma non avete che cacchio fare avete detto aspetta c'è chi piace il motelismo io mi piace di metterci il tubo e vado qua alle canne di scherito ma noi siamo qua e vi guardiamo ma donna santa avete tutto blindato qua dietro per poter andare fuori in accelerazione non dico altro non dico altro non dici siamo via via tuning due giri d'onore tuning due giri d'onore allora allora io scrello di scherito Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.